L'Igm non ci sta alla proroga di 15 giorni e blocca il servizio di raccolta rifiuti già da domani. Mentre la città attende di conoscere il futuro del servizio di igiene urbana, con l'arrivo della nuova azienda TEC che ha vinto l'appalto Ponte, Giulio Quercioli, il patron dell'Igm, la dita che per 70 anni ha curato la raccolta a Siracusa, dice ciao e chiude la porta. L'amministrazione è incapace di gestire un fenomeno come quello dell'igiene urbana. C'è stata una gara, c'è un vincitore, la TECRA, che a ottobre ha affermato di essere in grado di iniziare il nuovo servizio a dicembre, adesso però salta fuori che non è più pronto per l'Uno ma per il 15 dicembre. La società IgM, continua Quercioli, ha deciso di non lavorare più per il comune a partire già da domani, 30 novembre. Abbiamo cercato in ogni maniera di dare degli input per la gestione razionale dei rifiuti ma l'amministrazione ha voluto fare in modo diverso. Abbiamo fatto presente che a dicembre è un mese molto importante per la città, soprattutto per gli avvenimenti religiosi che ci sono e che un passaggio di servizio in quel periodo non è certo la cosa migliore. Ma l'amministrazione ha fatto orecchie da mercante e quindi a questo punto da domani noi non ci saremo più. Avevamo offerto la nostra disponibilità a svolgere il servizio per tutto il mese di dicembre, conclude Quercioli, ma il comune ha detto no.